Firenze, via del Prato 64, studio 64. Oggi termina la 22esima mostra Pittura e dintorni organizzata dalla scuola di pittura Sole Costa, associazione culturale. E qui noi scopriamo un luogo delizioso, è una vecchia officina, un'ex officina, e stasera si sta svolgendo anche a una festa, con un duo di jazz swing, e noi lo seguiamo mentre ci incamminiamo verso i locali della mostra. E questa è la collettiva degli allievi di questa scuola di pittura. e troviamo delle nostre amiche che hanno esposto le loro opere. Quali sono le opere da vedere, le vostre opere? No, tutte le opere, le tue. E l'altra qual è? No, tutte le opere, le tue. Quindi ve lo ripetiamo, studio 64, via del Prato numero 64 a Firenze, questa mostra collettiva di pittura dei pittori dell'associazione culturale Sole Costa.